Lunedì 23 luglio in primo piano nel TGL News la denuncia di un anziano piacentino rapinato a quanto ha raccontato ai carabinieri dell'orologio del valore di 5 mila euro all'esterno di un supermercato in via Manfredi gli si sarebbero avvicinati due uomini stranieri che con un oggetto poteva essere una pistola un coltello era coperto da alcuni stracci gli hanno chiesto il portafogli l'uomo non ce l'aveva con sé allora gli hanno strappato dal polso l'orologio prezioso sono saliti su una fiat punto di colore scuro per poi fuggire i carabinieri oltre a indagare chiedono a qualche passante a qualche cittadino che avesse visto la scena o potesse fornire elementi utili alle indagini di farsi vivi proprio con le forze dell'ordine andiamo in camera di commercio nuovi investimenti previsti nel bilancio del 2018 che si chiude con un avanzo di 63 mila euro naturalmente le risorse non sono tante il presidente Parietti ha detto che si concentrerà soprattutto a sostenere quelle iniziative già molto positive per il nostro territorio ad esempio il festival del teatro antico di velleia e quello del cinema di bobbio targato marco bellocchio parliamo poi di cronaca ce n'è stata tanta negli ultimi giorni aver nasca ad esempio ladri scatenati hanno rubato in casa di alcuni volontari che stavano prestando servizio per sulla pubblica assistenza andando se ne hanno rubato anche l'auto di grossa cilindrata dunque un pessimo rientro per queste persone che ricordiamo stavano lavorando per gli altri proprio la pubblica assistenza e chiudiamo parlando sempre di vernasca ma in questo caso di uno degli appuntamenti più attesi di tutto l'anno per l'alta valdarda vale a dire i basker days tornano dal 27 29 luglio nel prossimo fine settimana in arrivo 50 compagnie di artisti da tutta italia da tutta europa molto ricco il programma sul nostro sito liberta punto it naturalmente per tutte altre notizie non vi rimando solamente al nostro sito ma anche al tgl delle 19 30